Il sito internet del comune di Padula è più efficiente in termini di trasparenza ma anche in merito ai servizi offerti ai cittadini. Un sito capace di mettere a disposizione degli internauti informazioni esaustive sulle principali attività dell'ente comunale. La celerità nella pubblicazione degli atti, così come la facilità di navigazione agli stessi, accanto alle numerose operazioni consentite, collegandosi peraltro con un semplice clic al sito, hanno permesso all'ente comunale di classificarsi al primo posto tra i comuni della provincia di Salerno nella classifica del premio trasparente 2019 promosso da Asmenet. Lunedì prossimo 24 giugno si terrà la cerimonia di premiazione a Napoli. A ritirare il premio il sindaco Paolo Imparato e l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo che spiega come tra i fattori che hanno influito nella scelta di assegnazione del premio al comune di Padula anche l'attenzione riservata alla promozione del territorio e le numerose iniziative adottate in termini di rispetto della legalità. È arrivata la comunicazione di Asmenet che ha visto il comune di Padula come primo comune della provincia di Salerno, quindi premiato come primo comune della provincia di Salerno in questa graduatoria per la messa a disposizione online di atti e documenti. Sono particolarmente soddisfatti in questo caso come delegata alla comunicazione perché il sindaco ho imparato a sin dall'inizio puntato sulla comunicazione tanto da in questo mandato affidare appunto una delega anche così delicata ad un assessore per cui esprimo a nome del sindaco poi mio e di tutta l'amministrazione una grande soddisfazione per un lavoro che vuole guardare verso il futuro nell'ottica soprattutto dell'innovazione. Il ringraziamento va ovviamente a tutti i dipendenti comunali in modo particolare al segretario Francesco Cardiello che cura in modo diciamo specifico anche la parte della prevenzione della corruzione proprio sul sito per cui è diciamo il supervisore di tutta questa attività ed è anche questo un risultato molto soddisfacente che pone il comune di Padula in una posizione diciamo privilegiata per quanto riguarda le attività di legalità e di trasparenza. C'è un'attività diciamo che rende particolarmente visibili gli atti. Abbiamo completamente modificato la grafica del sito, la modificheremo ancora nei prossimi giorni per attenerci sempre di più a quella che è la normativa vigente. Per cui faccio un esempio, la parte dell'albopretorio è posta in modo particolarmente visibile in modo tale che i cittadini possano consultare facilmente le delibere di giunta, le determine, tutto ciò che poi anche gli uffici producono. Ma in generale ci teniamo molto all'aggiornamento online del sito per cui trovate sulla home quasi quotidianamente particolarmente visibili avvisi, insomma notizie, tutto ciò che possa essere di interesse per il cittadino. Ultima cosa, ultima ma non per importanza ma è particolarmente importante comunque sottolinearlo, c'è anche il link sul nostro sito di Padula Sistema Museo, quindi padula.eu da cui si possono visionare gli appuntamenti e tutto ciò che riguarda invece il sistema museale.